D'Antonio Ascensori, professionisti dell'elevazione, senza limiti. www.dantonioascensori.it La sosta, sebbene forzata, arriva in un momento in cui è utile al Cava Basket, che potrà lavorare sui propri difetti e sulle proprie positività in seguito alla sconfitta di Marigliano. Domani la squadra del coach Aldo Festinese avrebbe dovuto giocare in casa con la formazione di Parete nella seconda giornata della C-Silver. Invece il prossimo impegno ufficiale è quello di sabato 20 ottobre a Forio, nell'isola di Schia, contro la formazione foriana che nel primo turno aveva vinto su Mugnano. In pratica, contro Parete, i metelliani dovranno giocare giovedì 25 ottobre alle 21.15 al Palairno di Baronissi. Infatti, i lavori per l'adeguamento e l'acquisto della necessaria attrezzatura, propedeutici all'omologazione della palestra Mauro e Gino Avella di Pregiato, iniziati nei giorni scorsi, non saranno completati per quella data, anche se gli Eagles possono comunque allenarsi. L'auspicio è quello di poter inaugurare la struttura di Pregiato nella partita successiva contro la pallacanestro Trinità, allenata dall'ex Pino Ferrara, in calendario domenica 28 ottobre. Anche se l'ipotesi più concreta al momento è che la palestra sia pronta solo per la partita dell'11 novembre contro Curti. Intanto gli Eagles lavoreranno sodo per preparare al meglio la trasferta isolana di sabato. Ai microfoni della pagina ufficiale di Facebook del Cava Basket ha parlato ieri Antonio Fiorillo, classe 97, che aveva fatto bene nella prima gara di campionato, sebbene ciò non sia servito per ottenere il risultato pieno. Quando sei entrato in campo hai dato un grande apporto, infatti col tuo dinamismo comunque hai contribuito alla rimonta del Cava Basket, sfortunatamente poi è andata male perché c'è stato il calo nel quarto quarto. Sì, purtroppo abbiamo avuto un calo soprattutto a livello di prestazioni fisiche, anche perché le rotazioni, come ben sappiamo, sono molto ampie, però comunque non hanno contribuito a livello fisico e non ci hanno aiutato. Penso di essermi approcciato bene col Cava Basket e che ci sarà da divertirsi. Quali sono le ambizioni che ti poni per il campionato? Sinceramente si vedrà bene il campionato, però io penso che andrà molto bene, ci saranno delle ottime prestazioni.